salve a tutti friends dal vostro supercorris eccoci qua ragazzi si torna a parlare di serie a recappone della ventesima giornata prima di ritorno quindi andiamo a vedere un po cosa è accaduto e devo dire che sostanzialmente tante sorprese purtroppo molte nefaste anche per noi milanisti ho ideato un nuovo format che si chiama cuore rosso nero troverete tutte le news farò ogni fine partita del milan in qualsiasi competizione un video specifico per esempio adesso dopo domani uscirà un video dove parleremo di del calciomercato in generale per un discorso solo del milan in cuore rosso nero quindi sarà uno special che io dedico a me a tutti gli appassionati milanisti perché sentivo il bisogno di parlare solo del milan in certi video e non di fare un qualcosa generale invece nel recappone parliamo di tutti allora come al solito ragazzi iscrivetevi a tutti i miei canali lasciate un like seguitemi sui miei social sul canale telegram delle offerte supercorris offerte amazon dove vi metto tutti i giorni le migliori offerte di amazon c'è il canale ufficiale supercorris 84 di telegram per le news in anteprimi sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali c'è fruitlab c'è il canale viola supercorris gamer anche là e c'è la possibilità di aiutarmi a donare tramite il link che trovate in descrizione supercorris and friends per raccogliere soldi in beneficenza da donare ogni mese e anche a gennaio abbiamo sforato finalmente quota 500 euro allora partiamo subito venerdì alle 18 e 30 bologna spezia 2 a 0 il bologna si impone bene con lo spezia scontro diretto molto importante col bologna che effettivamente ragazzi sta facendo un ottimo campionato merito di tiago motta ma anche la squadra è stata costruita bene vediamo il bologna 26 punti si tira molto fuori dalla zona retrocessione che dista ben 14 lunghezze e ottimo risultato devo dire che il bologna mi sta piacendo lo spezia rischia di rimanere risucchiato nella zona retrocessione ha ancora sei punti di vantaggio sul verona ma ultimamente le sue prestazioni non stanno brillando più di tanto vedremo a me lo spezia non mi piace da quando andato in serial ho visto sempre una squadra scarsissima e si è sempre salvata incredibilmente quest'anno non lo so perché secondo me almeno il verona ma forse anche la sampedoria potrebbero tornare su da quella situazione in cui sono ora vedremo vedremo lecce salernitana 1 a 2 la salernitana torna a vincere in trasferta a lecce rialza la testa davide nicola che era stato esonerato e devo dire che anche la salernitana con questi tre punti importanti non solo sorpassa il lecce ma si pone a 9 punti sopra la zona pericolo io ve l'ho sempre detto la salernitana a me piace perché l'allenatore è bravo e l'ha dimostrato sempre la squadra non è male c'è ha dei buoni interpreti secondo me quest'anno si salva la salernitana anche con scioltezza nella seconda parte di campionato perché c'è tanti giocatori buoni e nicola il suo gioco lo dà non basta una sconfitta seppur pesantissima a cancellare quanto di buono comunque nicola ha fatto precedentemente il lecce buona squadra i gol sono arrivati tutti in 23 minuti non lo so ragazzi vi avevo detto inizio campionato per me lecce non è una squadra che i giocatori ideali per salvarsi però anche lui sta otto punti sopra vedremo potrebbe essere risucchiato però nella zona retrocessione perché stiamo vedendo che non è troppo costante empoli torino 2 a 2 bella partita sonora vibrante un pareggio che alla fine può andare bene a tutti perché stanno l'appaiati in classifica in top 10 entrambe è un'ottima posizione chiaramente il torino che potrebbe avere delle mire di coppe europee sappiamo ragazzi che il posto l'ultimo posto per la conference league che in questo momento sta occupando l'udinese fa gola un po a tutti certamente la più accreditata per prenderlo sarà la juventus però è un posto che fa gola un po a tutti è chiaro che il torino in questa ottica poteva fare qualcosa di più però anche l'empoli ci può pensare sono due squadre comunque che l'empoli giochi in maniera molto spigliata il torino è molto più pragmatico chiuso devo dire buona partita un punto che non scontenta nessuno l'inter vince a cremona 2 a 1 con la doppietta di lautaro martinez beh ragazzi ma l'inter sta facendo semplicemente quello che tutti ci aspettavamo anzi ha anche troppo distacco dal napoli perché l'inter per me a livello di rosa rimane superiore a tutti compresa il napoli ha tanti giocatori forti è chiaro che sta cercando che gente come lukaku torni a essere all'altezza però l'inter si può prendere un tranquillissimo secondo posto in classifica che a quel punto la porta comunque a fare un'ottima stagione la super coppa è vinta magari ti piazza un'altra vittoria in coppa italia l'inter ragazzi è forte io non capisco soltanto il discorso screener che avrei ceduto quest'estate quando l'inter ha tenuto screener mi sono detto in prima vabbè ci hanno parlato evidentemente vuole rinnovare se tu sapevi che screener già da quest'estate non voleva rinnovare perché te l'ha fatto capire perché non venderlo a 60 milioni di euro quest'estate invece adesso ti trovi che se lo vendi ora prendi 15 milioni di euro seppure in più ti trovi con un giocatore in meno errore di valutazione clamoroso quando si parla di marotta di sta gente qua ausilio e si santificano questi non è così sbagliano pure loro ora c'è il derby per me l'inter asfalta il milan nuovamente e vedremo cosa accadrà spero che il milan abbia un sussurto di orgoglio ma ho i miei dubbi l'atalanta vince contro la sampedoria un'atalanta che continua a macinare è in piena zona champions appare i punti con lazio e milan diciamo al terzo posto l'atalanta ragazzi non è l'atalanta spumeggiante di 3 4 anni due anni fa ma fa quello che deve fare segna e non sta prendendo gol la sampedoria chiaramente non è il miglior banco di prova per giudicarla però c'è da dire che c'ha un look man mostruoso questo giocatore veramente rivelazione eccezionale del campionato e varrà un botto di soldi a fine campionato è un'ottima squadra anche maele che un giocatore voleva addirittura anche la juve si sta dimostrando forte l'atalanta è pericolosa torna a essere pericolosa perché sembra aver ritrovato quelle alchimie del passato la sampedoria ragazzi sempre più disperata un po come la cremonese di cui non ho parlato ma sono sempre più disperate la vedo difficile dispiace perché comunque la sampedoria rispetto alla cremonese c'ha una buona squadra c'ha dei giocatori di serie a però non riesce a uscire da questo limbo in cui è decaduta vedremo cosa accadrà ma la vedo veramente difficile vergognoso il milan ragazzi vergognoso cioè non ho altri termini per definire il milan una vergogna praticamente dilaniato da un sassuolo che è scandaloso sassuolo che nelle zone calde della classifica non vinceva una partita da ere inenarrabili asfalta il milan ci fa capire quanto il milan in questo momento probabilmente valga una cremonese e una sampedoria questo è il livello del milan un milan che non può essere un discorso ne ho parlato nel video apposito andatelo a vedere se volete i dettagli non può essere più un discorso e ma quel e ma quell'alte ma sopra e ma sotto il discorso è che l'allenatore non riesce più a trasmettere stimoli ha sbagliato la preparazione e i giocatori in campo vanno svagati e questo è il risultato la stessa squadra l'anno scorso ha vinto il campionato molti giocatori stanno rendendo di meno perché sono appagati di uno scudetto uno scudetto è riuscito a pagare tutti questi giocatori che dobbiamo dire a questo punto non solo a rischio la champions e ora col tottenham perché secondo me ne prendiamo ma anche quella dell'anno prossimo è difficile che il milan riesca a recuperare la champions con annesso fuga di giocatori importanti con annesso il discorso che non entrano soldi e non puoi fare il mercato ci ha comprati questo fenomeno che è cardinale che non mette soldi e quei pochi che mette noi li spendiamo pure male non ho parola ragazzi è vergognosa la situazione io caccierei subito pioli perché l'allenatore non riesce a dare stimoli alla squadra ce ne vuole un altro juventus monza 2 a 0 monza che vince per la seconda volta in questo campionato contro la juve a torino grandissima partita un monza che gioca bene gioca molto all'attacco molto spigliato non a caso sale a 25 punti e sorpassa proprio la juve in classifica un monza che a questo punto si potrebbe fare pensierini sulla zona europea però c'è da dire che secondo me la juve tornerà su e spazzerà via tutte queste squadre e ci andrà lei in almeno in conference comunque un monza fantastico è riuscito sta riuscendo a fare un ottimo campionato dopo un inizio difficile dove secondo me comunque era difficile anche ambientarsi bene in una categoria che nessuno aveva mai visto a monza e i risultati stanno arrivando bella bella squadra vedremo sono contento perché a me fa piacere lazio fiorentina 1 a 1 cioè questo è il discorso di prima ragazzi voi pensate un po la lazio la lazio squadra che ha asfaltato il milano riesce a vincere con la fiorentina che è una delle squadre che non sta brillando più di tanto non a caso 24 punti in classifica la fiorentina ha perso la verb dell'anno scorso come si spiega perché il milan riesce a far diventare incredibile anche squadre di merda la lazio non che sia una squadra di merda però non è una squadra che sta brillando a parte alcune partite è in costante fa delle vittorie fragorose e delle partite molto mediocre con la fiorentina un 1 a 1 che non serve a nessuno perché non smuove la classifica di nessuno la lazio poteva fare un bel salto in avanti e stare con l'inter al secondo posto solitario ed invece si deve accontentare del di un pareggio che la lascia un po nel limbo della champions idem la fiorentina che rimane a 24 punti un campionato deludente mi aspettavo molto di più da questa fiorentina perché tanti giocatori di qualità ce l'ha evidentemente italiano non sta riuscendo a fare come pioli a far rendere i giocatori concludiamo con il napoli che batte la roma da raga ve l'ho detto c'è il napoli quest'anno vince lo scudetto a mani basse ora non c'è più da dire nulla napoli sontuoso osimen fa un gol davvero spettacolare con un palleggio non facendo toccare il pallone a terra incredibile ti segna neanche simeone che francamente entra la panchina e ti fa gol continuativamente è un napoli di un alto livello qua rasveglia fa l'assist eccezionale la roma che comunque non sta giocando male ultimamente si deve inchinare nonostante ritrovato un grande al sharabi nonostante zagnolo è fuori adesso ne parleremo quando parleremo di mercato nel video apposito ragazzi il napoli è infermabile infermabile nessuno lo può fermare nessuno può evitare che il napoli dopo tantissimi anni rinca uno scudetto meritato ve lo dico io meritato perché quest'anno il napoli sta facendo i miracoli sarebbe veramente bello se il napoli riuscisse a fare qualcosa di importante in champions perché sarebbe clamoroso ragazzi in champions non ha mai avuto tutta questa fortuna sarebbe bello che si prende una rivincita migliore della giornata nettamente il napoli squadra sontuosa da tutti i punti di vista peggiore il milan fanno fa schifo mi vergogno di essere milanista ciao aglio ciao ciao